benvenuti nella sua cucina ma perché non ci vissiamo un po con una cena come si deve visto che c'è un tempo di merda non possiamo girare quindi vediamo cosa mi viene fuori basta che non fai l'esagerato ciao gustavo la mazza location casa di teodoro intanto una cena di pesce abbiamo acquistato il mix di lamponi mertilli e more una bocca due mangi che sono quelli che mi ha dato il pacchi devo fare tanto 3 maracuille 4 line già grattati di cui due già grattati e due nuovi quindi frutta spesa totale 5 euro per il comparto vino ho portato un mattia vezzola costa ripa presa al tosano 15 euro ma di gran qualità io per il comparto vino una sorpresina dai non possiamo bere due bottiglie di vino mentre per il comparto pesce abbiamo speso 43 euro e 87 3 3 6 2 8 scampi quattro cannestrelli le canocchie fresche molto bene gamberi rossi di mazzara quattro calamari per ultimo una fettina di tonno abbattuto mi raccomando dormi daresti un grembiule e così facciamo gli chef fatti bene il grembiule di gucci bici action video video perché non mi cagli a queste cose vuole che glielo dica anche con lo slang di legge vuole che glielo dici con l'accento io sto pulendo le canocchie che rimane di male veramente stronzo da pulire perché ha tutte le spine in questo dovevo prendere la jona per ricambare così e parlare in inglese andavo a dire subito qua siamo alla pulizia del sesto scampo se ne mancano due un lavoro veramente iniziale ma che cazzo questo scampo sembra un operazione a cuore aperto rimane pulito è bene invece sono più semplici le gambe ormai pulite dei treni sono buba gamba si possono fare i gamberi gamberi fritti gamberi crudi essendo il nostro pesci dendolo una gran brava persona li ha già puliti li ha lasciato solo il corallo questo procedimento quindi si deguscia si strizza la codina il gambero è pulito e le canocchie sono pulite gli scampi e i gamberi sono puliti i canestrelli erano già puliti ci accingiamo alla preparazione di un piatto che abbiamo scoperto quest'estate in croazia spaghetti di calamari non è altro che tagliare il calamaro strisciolino e molto sottili quindi il calamaro pulito è più o se abbiamo il taglio delle striscioline pulire il mango sembrava così schifoso posso usare sono speciale guarda questo qua c'è un sacco di parti gialle belle qua riusciamo recuperare sembra vomito non so si percepisce il colore osceno che ha appurato che il mango è inutilizzabile perché di color vomito l'avocado sembra una pietra vediamo il tonno per fare questi finger due scampi perché sono piccolini tartarizzare e poi andiamo a collocarlo sul suo cucchiaino facciamo la stessa cosa per i gamberi rossi chiamiamo il budellino stessa cosa è stata fatta anche per le canocchie campo gambero rosso canocchia e adesso faremo un pochino adesso c'è il turn prova qualità cosa che gli fai quindi praticamente l'effetto è questo tagliamo la maracuia a metà andiamo a guarnire un po i nostri finger un po il nostro piatto di crudi tra le altre cose che ci servono ci vuole la menta il timo un mango no colpo di scena mi hai fatto davvero un mango perché mi hai fatto fare la figura di merda con un mango marcio in condizioni perfette il mango che abbiamo trovato in frigo è di questo colore giallo acceso il mango che mi ha venduto il pacchi che è di questo colore cacca di bimbo barra vomito andremo a farlo a cubarelle matteo voleva attentare alla mia salute tra l'altro il mix dinamico è proprio quello che mi aveva quasi ucciso ad un compo allora niente avocado torna in frigo l'avocado attenzione l'avocado per guarnire mango mirtilli lamponi mango more maracuia mango pomodoro mango fiocchi di sale bianco olio mango tabasco menta timo io il timo non non sapevo neanche che fosse usato come guarnizione salsa di soia semi di sesamo pepe ci serve mango goccino d'olio scorzetta di lime uno scampo due ma dico due proprio granellini di sesamo nero mango il nostro sale in fiocchi per il gambero rosso maracuia collochiamo e poi sempre qualche scaglietta di sale il tonno invece tabasco i nostri pomodorini un'operazione chirurgica all'olivetta taggiasca e un pochino di sale sempre per gradire i granelli di pepe il coppapasta questo strumento leggendario abbiamo anche i piatti in ardesia molto scenografici gli scampi due canocchie meschi nato guarda la canocchia tre gamberetti due canestrelli mettiamo il tonno dentro il coppapasta maracuio e adesso è arrivata la parte di condire è un quadro un quadro mettiamo qualche goccia di soio tappare il buco sopra che così esce piano la senape di dijon il canestrello che non sempre mettere le nostre due cucine di pesco di alice un po' di sale e un po' di pepino e anche questo piatto è fatto ah lo chef si è dimenticato di mettere il timo nel tonno cosa fa il timo? l'immettorio di calamari abbiamo tagliato due foglioline di menta poi ci siamo seduti a tavola Matteo ha scelto una bottiglia di mango quindi abbiamo fatto un cambio di programma sulla bottiglia eh ti ho visto chin presa di come si presenta la cena va bene abbiamo concluso la cena qua ci sono i cadaveri i piatti non hanno più nulla all'interno cos'altro se vi è piaciuto questo video non vorrei fare come di youtuber però se vi è piaciuto questo video visto che stiamo sperimentando e che Matteo che è lui ha un talento nel nel cucinare nel preparare i piatti fate un commento dite quello che volete Teodoro saluti dagli spettatori ciao spettatori ci vediamo al prossimo mango